L'associazione TV6 continua il suo impegno per rendere la nostra provincia cardioprotetta e garantire anche alle zone collinari più lontane dall'ospedale la possibilità di avere un defibrillatore a portata di mano in caso di necessità. Questa volta alla solidarietà è stato unito lo sport con due eventi specifici, le Camminate del Cuore, che porteranno le persone a camminare insieme con l'obiettivo di portare avanti la memoria di Matteo Tivegna e dare un aiuto concreto ai cittadini. Le Camminate del Cuore nascono da un'idea dell'Earth to Earth Village quando abbiamo donato i defibrillatori nei vari borghi. Da lì, nel momento della donazione, partiva un processo di solidarietà per donarlo a un altro borgo. Allora è venuta l'idea di fare delle camminate nei luoghi in cui abbiamo donato i defibrillatori. Quindi noi partiamo il 15 ottobre da Trebbiano per arrivare a Solare, quindi toccando i borghi di Cerri di Pugliola e arrivando a Solare e con l'obiettivo di donare il defibrillatore a Cerri e Solaro che ne sono sprovvisti. La domenica successiva partiremo da Maggiano e arriveremo a Sarbia con l'obiettivo di donare il defibrillatore a Sarbia. L'altro obiettivo importante, oltre alla donazione effettiva nel borgo di Sarbia, è quello di donarlo al borgo di Campiglia. Noi invitiamo tutti i cittadini a partecipare, possono andare online sul sito dell'associazione e iscriversi, oppure venire alle 9 e mezzo la mattina dell'iniziativa e iscriversi fisicamente sul posto. Per chi fa sport la presenza di un defibrillatore nei dintorni è particolarmente importante, per questo anche WISP ha deciso di sostenere questa iniziativa. Con l'associazione TV6 collaboriamo da diversi anni e abbiamo cercato di coinvolgere le nostre realtà sportive, quindi campionati di calcio, di biliardo, manifestazioni come di città. Parte di queste nostre iniziative hanno in qualche modo permesso l'acquisto di defibrillatori. La presenza di un defibrillatore e la necessità di volontari che sappiano usarlo va a rafforzare il senso di comunità che si respira soprattutto nei borghi. Il COP sostiene questa attività da un po' di tempo proprio per i valori che sono in questa attività e soprattutto il tema della comunità, per cui con delle azioni fatte insieme si riesce ad avere dei risultati che ricadono come utilità sociale su tutto il territorio. Il tempismo in caso di problemi cardiaci è veramente fondamentale, per questo l'iniziativa andrà ad aiutare anche i tanti volontari che lavorano nella nostra provincia. Si fa la differenza perché nei primi sette minuti l'intervento deve essere importantissimo. Quindi questo progetto è molto importante, appunto specialmente nei luoghi molto lontani dai pronto soccorso, dalle postazioni di pronto soccorso di ambulanze. e quindi ci auspichiamo che migliori c'è, che funzioni sempre meglio e che si allarghi ancora di più alle zone che non sono ancora state raggiunte dai defibrillatori. Grazie.